Per l'uomo d'affari, il top manager, l'imprenditore, l'automobile è un biglietto da visita. Deve coniugare stile, eleganza, personalità e prestigio. Da sempre Maserati costruisce vetture di alta rappresentanza, nelle quali lo stile inconfondibile della Casa del Tridente e le eccezionali performance formano un cocktail entusiasmante. Da oggi Maserati offre la possibilità di utilizzare quotidianamente le proprie berline prestigiose per lavoro di porto su lunghe percorrenze con costi di gestione contenuti. Ecco a voi Ghibli e 4 porte diesel. Con Ghibli e 4 porte diesel, Maserati entra di diritto nella shopping list dei fleet manager e di quanti desiderano una sport sedan o un'ammiraglia potente, veloce, incollata alla strada, che offra massima affidabilità, grande autonomia e bassi consumi. Due le opzioni per Ghibli V-side diesel, propulsore 3 litri da 250 CV per rientrare nella fascia esente da superbollo o da 275 CV per il massimo delle performance. 250 km all'ora, 6,3 secondi da 0 a 100 e un consumo di soli 5,9 litri ogni 100 km nel ciclo combinato. Per tutte il cambio automatico sequenziale 8 marce è di serie, insieme a una dotazione di accessori molto ricca. Anche per 4 porte doppia opzione. Di serie fari all'oxeno, sedili a regolazione elettrica, navigatore satellitare, impianto Wi-Fi premium e sospensioni attive. L'affidabilità delle vetture è garantita per 3 anni a chilometraggio illimitato. Una sfida vinta, quella di Maserati, dimostrare con le versioni diesel delle sue berline di prestigio che le sue fuori serie di serie possono diventare anche uno strumento di lavoro e non soltanto uno splendido oggetto della passione. Tutto questo a partire da 68.000 euro per Ghibli e 98.000 per 4 porte. Ghibli e 4 porte diesel, meravigliose ambasciatrici di un made in Italy fatto di tradizione e innovazione. Proprio come Maserati. 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 Proprio come Maserati.